BrJ forfatti quatt'anni, i ritiri non ho raccom rigffi, io non ho fatto niente naturalmente, è più quatt'anni e ora arrivi a volte E la stella del pugilato femminile, la napoletana Irma Testa, prima italiana a salire sul ring di un'Olimpiade. C'è pensato pure l'anno in giro, c'è pensato pure di tornare a Cannavole. C'è pensato pure di tornare a Cannavole. C'è una fase quattro. Si, non faccio quello che faccio. E tu non sei solo quello, che si sta a dirmi? E io sono tornata alla posta per te e tu non ti fatti avrei un po' Non hai già potuto fare la mamma perché va a fare la mamma e il padre. Che va a fare io? Non hai già fatto proprio fa manca niente. Non hai già fatto il pubblico. E' qua, è qua che devi stabilire quello che vuoi fare da sola.